quando luca esce per farlo addormentare noi ci siamo ci siamo nei progetti di marta e andrea ci siamo in ogni storia che inizia c'eravamo quando lara aperto il suo negozio quando dario si è concesso una pausa e anche al primo appuntamento di anna nei giorni indimenticabili e in quelli no noi ci siamo unipol sai assicurazione agenzia unisicura piazza di torto 84035 polla da oggi puoi pagare tutte le tue polizze incomoderate mensili a tasso zero senza anticipare nulla si inizia a pagare dal mese successivo istituto comprensivo polla caggiano i giudici del tar e del consiglio di stato definiscono la vicenda sede scolastica operativa ma accorpamento confermato incidente campagna arresti domenica domiciliari per la donna alla guida dell'auto che ha colpito la pattuglia dei carabinieri sala consiglina pattuglia piedi dei vigili urbani nel centro storico l'iniziativa dell'amministrazione cartolano e del comandante salvatore della luna maggio montesano sulla marcellana domenica la messa in funzione della vettura del gruppo guardie ambientali d'italia e il preform day santarsenio il 28 ottobre incontro sul tema la salute ci sta a cuore organizzato da bcc montepruno e sezione aia sala consiglina ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione l'accorpamento tra gli istituti scolastici di polla e caggiano è stato definitivamente confermato sulla base anche di pronunciamenti recenti da parte del tar e del consiglio di stato il primo ha sostenuto che non sussistono le condizioni pregiudiziali essendo la sede di caggiano della scuola comunque operativa il consiglio di stato ha ritenuto improcedibile l'azione del commissario ad acta nominato per l'attivazione del codice meccanografico vediamo il servizio sembra ormai chiusa e definita la questione accorpamento istituti scolastici nell'ambito del dimensionamento scolastico come stabilito dall'ufficio scolastico regionale e che ha visto accorpati gli istituti di polla e caggiano in un unico istituto comprensivo dai giudici amministrativi del tar di napoli e del consiglio di stato sembra che sia ormai stata fatta chiarezza sulla vicenda con la conferma dell'accorpamento tra i due istituti ad annunciarlo il sindaco di polla massimo loviso che a seguito pubblicazione delle sentenze dei giudici amministrativi ha voluto dichiarare definitivamente chiusa la questione sperando nel contempo che le due amministrazioni possano tornare ad un confronto pacifico e collaborativo nell'esclusivo interesse delle comunità rappresentate con l'ordinanza del 10 ottobre scorso emessa dai giudici della quarta sezione del tar napoli e la successiva ordinanza del consiglio di stato pubblicata il 16 ottobre vengono assunte decisioni che riguardano sia l'accorpamento degli istituti e sia il ruolo del commissario ad acta per il quale si era inizialmente chiesto l'intervento per l'attivazione del codice meccanografico per l'istituto di caggiano i giudici del tar napoli in particolare nella loro decisione ricordano come la delibera oggetto di esame da parte dei giudici in realtà non comporta gravi pregiudizi nell'ambito dell'attività didattica ad assicurare agli alunni che frequentano l'istituto comprensivo di caggiano comune montano dato che la sede scolastica resta comunque operativa mentre si va solo a modificare la sede legale che dunque viene accorpata all'istituto pollese ed ha dunque deciso di rispingere l'istanza cautelare proprio per la mancanza di pregiudizio grave e irreparabile nella successiva decisione dei giudici del consiglio di stato pubblicata lo scorso 16 ottobre inoltre i giudici della settima sezione nel rispondere ai chiarimenti richiesti dal commissario ad acta sulla reale azione da svolgersi hanno dichiarato l'atto improcedibile per carenza di interesse due decisioni che dunque confermano l'accorpamento degli istituti scolastici fermo restando la persistenza delle sedi scolastiche una decisione che commenta il sindaco di polla massimo loviso che si era costituito come parte nel contenzioso sottolineando e ribadendo che il provvedimento varato dalla regione non comporta la chiusura della sede scolastica ma solo lo spostamento della sede legale e la condivisione dello stesso dirigente scolastico pertanto nulla cambia per gli studenti del comprensivo di Caggiano alla luce dunque di quanto emerso auspica un ritorno a più tranquilli e pacati rapporti tra le due istituzioni che non comportano il ricorso presso i giudici amministrativi ma che piuttosto siano basati su confronti costruttivi e collaborativi per il bene delle comunità rappresentate sono stati disposti gli arresti domiciliari per la donna che lo scorso 6 aprile era alla guida dell'auto che ha colpito violentemente la pattuglia dei carabinieri in servizio provocando il decesso di due militari e di un uomo di 75 anni questa mattina gli agenti della squadra mobile hanno dato seguito al provvedimento restrittivo richiesto dalla procura della Repubblica di Salerno vediamo arresti domiciliari per la donna ritenuta responsabile della morte dei due carabinieri e anche di una terza persona rimasti tutti coinvolti nel tragico incidente stradale che si è verificato a campagna il 6 aprile scorso una tragedia che ha portato alla morte di due giovani militari in servizio presso la stazione carabinieri di campagna e che in quel momento erano impegnati in operazioni di perlustramento e controllo del territorio quando all'improvviso sono stati colpiti in maniera violenta dall'auto della donna una Range Rover Evoque che ha provocato la morte dei due carabinieri il ferimento di un terzo militare e la morte anche di una terza persona rimasta coinvolta con la sua auto una Fiat Punto nel tragico impatto questa mattina all'alba la squadra mobile di Salerno coadiuvata dalla direzione centrale della polizia stradale di Roma e dal gabinetto centrale di polizia scientifica ha dato seguito alla misura cautelativa degli arresti domiciliari a carico della donna alla guida della Range Rover su disposizione del giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza su richiesta della procura della Repubblica di Salerno le indagini portate avanti a seguito del grave incidente hanno consentito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto secondo la ricostruzione dell'incidente pare che nella notte del 6 aprile scorso mentre tre militari erano impegnati in un servizio perlustrativo del territorio stavano svoltando verso sinistra quando sono stati raggiunti e colpiti in maniera violenta sulla fiancata destra dall'autovettura guidata dalla donna raggiunta dal provvedimento restrittivo la sua auto inoltre nel girare per 180 gradi andava anche a colpire una Fiat Punto guidata da un 75enne deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro presso l'ospedale dove era stato trasportato d'urgenza. Lo scontro ha provocato l'immediata morte sul colpo di uno dei tre militari rimasti coinvolti nell'impatto mentre per gli altri due si è reso necessario l'immediato trasporto presso il vicino ospedale di Eboli dove uno di loro nonostante i numerosi tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari è purtroppo deceduto. Nel corso delle conseguenti indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Salerno e svolte dalla squadra mobile unitamente al laboratorio centrale Automotive Analytics del servizio di polizia stradale di Roma attraverso anche l'acquisizione e l'analisi dei filmati raccolti dalle telecamere di videosorveglianza avvalendosi inoltre dei rilievi planimetrici e fotogrammetici effettuati sul posto per ricostruire quanto accaduto è stata ritenuta fondata da parte dei giudici la ricostruzione secondo cui la Range Rover guidata dalla donna sarebbe giunta sul luogo dell'impatto ad una velocità superiore ai 120 km orari pertanto con un eccesso di velocità rispetto al consentito di oltre 60 km orari in una zona peraltro ritenuta a centro urbano e dove il limite di velocità concesso è di 50 km orari. Ciò ha portato alla perdita di controllo del veicolo che nonostante il tentativo di frenata ha colpito violentemente la pattuglia con a bordo i militari e la Fiat Punto casando il decesso di tre delle quattro persone coinvolte. Intensificare i controlli nel centro storico di Sala Consilina tra le priorità dell'amministrazione comunale che su iniziativa del vice sindaco Bartolo Lettieri e del delegato al centro storico Antonio Santarsiere insieme al comandante dei vigili Salvatore della Luna Maggio hanno deciso di predisporre pattuglia a piedi di agenti della Polizia Municipale. A Sala Consilina si potenziano le attività di controllo del territorio da parte degli agenti di Polizia Locale su disposizione del neocomandante Salvatore della Luna Maggio che ha deciso di concentrare verifiche per la prevenzione di reati di ogni tipo anche nel centro storico attraverso la presenza dei vigili lungo i vicoli. Ad annunciarlo il vice sindaco di Sala Consilina Bartolo Lettieri delegato al personale e alla viabilità e il presidente del consiglio delegato al centro storico Antonio Santarsiere. Rendere dunque Sala Consilina ed in particolare il centro storico più sicuro e controllato vi entra tra le priorità dell'amministrazione cartolano che può contare sulla piena condivisione delle azioni anche del comandante della Polizia Municipale Salese della Luna Maggio ed ha dunque pensato di ricorrere a presidi di controlli preventivi in particolare nelle aree del centro storico che risultano anche meno frequentate e dove pertanto è più facile che possano commettersi reati. L'annuncio della nuova disposizione è arrivata questa mattina spiegando come è stata disposta una pattuglia di polizia locale a piedi che vigilerà sulla parte più antica del borgo nell'ambito di appositi servizi di controllo periodici e che interesseranno diverse zone dell'area storica. Si tratta, fanno sapere dall'amministrazione cartolano ed in particolare il vice sindaco Bartolo Lettieri e il delegato al centro storico Antonio Santarsiere, di un segnale di vicinanza ai cittadini, specialmente a coloro che vivono nelle aree più svantaggiate del centro storico. Gli agenti avranno il compito di segnalare agli uffici competenti eventuali anomalie e di prevenire reati di varia natura, contribuendo così alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita nel cuore della città. Entra dunque nel vivo la nuova operazione Sicurezza che interessa in particolare proprio la parte più antica di Sala Consilina, di suggestiva bellezza ma purtroppo spesso dimenticata anche per effetto del continuo spostamento più a valle dei cittadini. Una zona che però va tutelata anche al fine di prevenire forme di reato di qualsiasi genere, in particolare per il valore culturale e turistico che potrebbe rivestire, oltre naturalmente al valore storico che racconta le radici e il processo di cambiamento della città salese. Ha preso il via il CPA di Salerno, il nuovo corso per adulti digitali che può contare su una classe di ben 20 iscritti e tra questi anche diversi laureati che hanno scelto il CPA per migliorare le loro competenze e le loro professionalità. Ci sono anche persone laureate tra i primi 20 iscritti al corso gratuito per adulti digitali che ha preso ufficialmente il via questa mattina in via Monticelli a Salerno presso la sede del centro per l'istruzione degli adulti. La scuola diretta da Mariella Montuori è l'unica in campagna ad aver attivato questo tipo di corsi che la preside definisce una condizione per riqualificare le competenze ma anche dare occasione ad adulti, uomini e donne di età compresa tra i 34 e i 50 anni fuori dal mondo del lavoro di trovare un'occupazione grazie al conseguimento della certificazione e i pass 7 moduli. Cosa si aspetta da questo corso? Ah, prima di tutto migliorare o per dire imparare più che altro perché veramente non ho una conoscenza a lui e quindi va bene, magari nel futuro anche avere la possibilità di trovare un lavoro E' un attestato di cellul digitale, comunque serve per usare il computer e poi fa punteggio La giornata di oggi in realtà è proprio un suggello di questa azione insieme alla dottoressa Montuori la dirigente scolastica del CIPIA. Abbiamo praticamente avviato già da qualche tempo una collaborazione questa è un'azione concreta e la Regione Campania con il mondo dell'istruzione è assolutamente presente sul territorio per garantire la dignità a tutte le persone attraverso l'inserimento, la ricollocazione e la riqualificazione nel mondo del lavoro. Noi come CIPIA di Salerno siamo l'unico CIPIA della Campania a erogare questa tipologia di corsi rivolti a persone disoccupate e inoccupate tra i 34 e i 50 anni oppure con una fascia di reddito molto bassa per dare loro l'opportunità appunto di reinserirsi nel mondo del lavoro. E' questa iniziativa che rientra dal progetto adulti digitali per corsi di formazione del lavoro e rientra nel mosaico di opportunità che in Regione Campania appunto stiamo provando ad offrire. Il progetto che è finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale è promosso da Indire, Indire l'istituto nazionale di ricerca, innovazione e ricerca educativa ed è svolto in partenariato appunto con il sistema DICIPIA e con l'Università Federico II di Napoli. Gli attentati di Nassiria di cui il più grave si verificò il 12 novembre del 2003 provocando la morte di numerosi carabinieri e militari dell'esercito italiano oltre che di civili sarà ricordato giovedì prossimo 24 ottobre a Sassano dove la Proloco guidata da Giovanni Calandriello in collaborazione con il Comune di Sassano e l'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto che la drammatica vicenda e soprattutto le tante vittime italiane possano restare immortali anche tra la comunità sassanese. Per questa ragione giovedì mattina si terrà la benedizione del CIPPO dedicato alle vittime di Nassiria. L'evento che prevede una serie di iniziative di forte emozione proprio al ricordo delle vittime giunte in Iraq per un'operazione di pace si aprirà con l'esibizione della fanfara del decimo reggimento Carabinieri Campania in piazza Umberto I. La cerimonia si sposterà poi alle ore 10.30 presso la piazzetta antistante la sede della stazione Carabinieri di Sassano dove è stato apposto il CIPPO in ricordo dei caduti di Nassiria dove dopo i saluti delle istituzioni e delle autorità sarà scoperto il CIPPO e sarà effettuata la benedizione con la lettura di tutti i nomi delle vittime degli attentati di Nassiria e la successiva deposizione di una corona da loro. A seguire si terrà il momento commemorativo delle vittime accompagnato dalla musica della fanfara con l'inno del piave e il silenzio militare all'evento organizzato grazie al supporto degli sponsor ISP e GB di Brizzi prenderanno parte anche numerose autorità militari per rendere omaggio insieme alla comunità sassanese ai caduti. Bene, ora ci fermiamo per un po' di pubblicità. Non lasciare che l'inverno e il freddo ti trovino impreparato affrontali con le soluzioni di GB di Brizzi stufi a pellets o a legna, termocamini e inserti per dare alla tua casa il giusto tepore. Inoltre da noi, trovi pellets di alta qualità certificata prodotti con la trasformazione e la lavorazione di soli materiali vergini. Cosa aspetti? Passa a trovarci! E beneficia subito della detrazione fiscale del 65% sugli impianti di riqualificazione energetica. GB di Brizzi Il calore che scalda il cuore. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale a Montesano sulla Marcellana domenica scorsa si sono svolti due importanti eventi la messa in funzione della vettura del gruppo Guardi Ambientali d'Italia e il Preforum Day. Vediamo. Due importanti eventi si sono svolti domenica scorsa a Montesano sulla Marcellana la messa in funzione della vettura del gruppo Guardi Ambientali d'Italia e l'incontro dal titolo Preforum Day il sindaco Giuseppe Rinaldi ha precisato che nella mattinata di domenica in piazza La Rocca di Montesano Scalo alla presenza dei vertici provinciali e volontari del territorio del gruppo Guardi Ambientali d'Italia si è svolta la benedizione e la messa in funzione operativa dell'autovettura dell'associazione è stato un momento, ha spiegato il primo cittadino per ringraziare i tanti volontari che gratuitamente si occupano di assistenza alla popolazione e di salvaguardia dell'ambiente i volontari e i dirigenti provinciali ha spiegato poi il sindaco ci hanno ulteriormente reso onore e piacere con la loro visita al centro storico e alla foresta Cerreta Cognole l'altro importante appuntamento si è svolto nel pomeriggio di domenica presso il palazzo comunale Gerbasio che ha ospitato il pre-forum dei promosso dal coordinamento provinciale del forum dei giovani e dal forum dei giovani di Montesano sulla Marcellana il tema ha proposto giovani e lavoro ha detto il sindaco il coinvolgimento delle realtà istituzionali locali e di aria vasta gli esperti su punti specifici hanno in generale consentito la rappresentazione di un quadro importante di riflessione con spunti concreti e con contestuale invito all'impegno civile nei territori di appartenenza nel ringraziare gli organizzatori per aver scelto Montesano come location di questo evento il sindaco infine ha affermato che è stata occasione anche per i giovani provenienti da altri territori di ammirare le bellezze e le specificità del borgo Sport e salute camminano insieme per sensibilizzare su entrambe le tematiche scende in campo la BCC Montepruno che insieme alla sezione aia di Sala Consiline e al Comitato Regionale Campania della FIGC ha organizzato per lunedì 28 ottobre un incontro dal titolo La salute ci sta a cuore che si svolgerà presso la Sala Cultura della BCC Montepruno a Sant'Arsenio La BCC Montepruno vicina anche alle associazioni sportive al fine di diffondere sempre più il valore dello sport per la tutela della salute Nell'ambito di tale iniziativa l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese ha messo a disposizione della FIGC Italia Comitato Regionale Campania e dell'Associazione Italiana Arbitri sezione di Sala Consilina Antonio Parrella la Sala Cultura della Sede di Sant'Arsenio della Banca per discutere di un progetto che vede coinvolti oltre alla BCC Montepruno anche le associazioni organizzatrici La presentazione del progetto è prevista per lunedì prossimo 28 ottobre alle ore 17.30 nell'ambito dell'appuntamento di grande spessore divulgativo e scientifico Il tema della salute nello sport rappresenta un cardine per questa attività e la giusta prevenzione cardiovascolare nello sportivo è elemento fondamentale per non correre rischi avendo la necessaria consapevolezza di quello che si sta facendo L'evento dal titolo La salute ci sta a cuore punta a sensibilizzare gli sportivi sull'importanza della prevenzione sanitaria Ad aprire lavori sarà il direttore generale della BCC Montepruno Michele Albanese che ha spiegato rinnoviamo la nostra collaborazione con la sezione AIA di Sala Consilina Antonio Parrella per discutere ed approfondire tematiche rilevanti nel mondo dello sport e non solo Siamo particolarmente felici ha proseguito il direttore Albanese di tenere presso la nostra sede questo evento con rinomati professionisti specializzati in questa materia La prevenzione nello sport e anche nella vita è indispensabile e dare alla nostra comunità elementi per aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza è la strada migliore per continuare a svolgere al meglio il nostro ruolo Enorme anche la soddisfazione del presidente della sezione AIA di Sala Consilina Manuel Robilotta il quale ha dato risalto ad un evento importantissimo per la salute dei propri arbitri e degli atleti che esercitano attività sportive nei campi del territorio L'evento vedrà la partecipazione e gli interventi di numerosi relatori esperti dell'argomento La band cilentana The Barnet Out presenta il suo primo singolo dal titolo Terra Arida una riflessione profondamente emotiva sulla perdita e il dolore Si intitola Terra Arida il singolo desordio dei Barnet Out band cilentana composta da sei giovani musicisti uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di creare un sound fresco e originale il gruppo si distingue per la presenza di due voci principali Rosa Trotta e Giovanni Radice in arte John Root con un timbro vocale in contrasto ma unico nel loro genere alla chitarra Mario Costanzo abile nel fondere melodie coinvolgenti e potenti a soli al basso Antonio Lamoglie cuore ritmico del gruppo al piano Emilio Vergati e Dante Cariello alla batteria nonostante la recente formazione la band ha già iniziato a farsi notare nel cilento aprendo il concerto dei Jalissa Sapri e suonando a Torraca Capitello e Villammare più volte il brano racconta la band è una riflessione profondamente emotiva sulla perdita e il dolore l'autore descrive una relazione finita dove la persona amata se n'è andata lasciando dentro di lui un vuoto incolmabile una terra arida il testo esplora i temi della colpa del pentimento e del rimpianto per azioni passate accompagnati da un senso di impotenza e di stacco emotivo l'autore spiegano ancora Burned Out ammette di avere commesso errori e riflette su come il dolore sia amplificato dal ricordo dei momenti felici che ora sembrano irraggiungibili c'è una lotta interiore tra il desiderio di ricostruire ciò che è stato perso e la consapevolezza che ormai è troppo tardi il ritornello enfatizza il senso di vuoto e solitudine che l'autore prova dopo la separazione la particolarità del brano concludono dalla band è che il testo è raccontato da tutte e due le parti con due soggetti bene con la musica termina il nostro telegiornale io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti